vi porto a fare urbex con me con lo zio sam finalmente lori ovviamente ho preparato per lui un sacco di dolci tra cui rotolo al cioccolato e muffin eccolo finalmente che arriva sono troppo felice e ci avviamo verso i posti non ne abbiamo trovati tanti siamo tornati a villa usi e costumi la villa del papero che lui non l'aveva vista io non avevo visto questa parte è sempre bene tornare in un posto se si riesce perché una seconda esplorazione riserva sempre qualcosa di nuovo e ovviamente tanti tanti cancher in più perché io questi li avevo proprio scordati poi ci siamo recati in questa chiesetta abbandonata sebbene sia fatiscente qualche chicca carina ce l'ha riservata io come al solito ho voluto fare il balletto si va bene la danza del canchero chiamiamola così com'è questa chiesa è bella poi caffè post urbex per me con panna per altri video su urbex e degrado seguimi